buongiorno a tutti e a tutte ci troviamo qui per parlare brevemente di unione europea per cinque minuti non di più che è un compito molto difficile perché ci sono tante cose da dire e allora la prima cosa giustamente è iniziare dicendo che cos'è l'unione europea e anche che cosa non è l'unione europea per fare questo ci aiuteremo con alcune slides che cercano un pochino di spiegare quello che è l'unione europea l'unione europea è una è un'organizzazione internazionale quindi nasce da trattati che sono stati firmati da alcuni stati membri che però nel corso del tempo ha cambiato la propria natura è diventato qualcosa di molto più importante di una normale organizzazione internazionale e ha finito per assomigliare per molti temi per molti aspetti ha uno stato pur non essendo uno stato nemmeno uno stato federale quindi in questo momento noi siamo in grado in parte di dire cos'è l'unione europea quindi un'organizzazione internazionale sui generis però non sappiamo dire esattamente cosa è nella sua consistenza e cosa sarà nel futuro allora se vogliamo definire un pochino le sue caratteristiche odierne possiamo dire che ci sono 27 paesi quindi una dimensione ormai quasi continentale esistono ancora delle aree importanti che che stanno fuori da questa cartina colorata in parte si sta modificando alcuni stati stanno cercando di entrare ci sono dei candidati e uno stato fino ad ora la gran bretagna con la brexit ha deciso di andarsene ma se voi guardate questa cartina avete una dimensione anche geografica della dell'unione europea e poi un'area molto composita abbiamo ben 24 lingue ufficiali quindi una una grande ricchezza ma anche una grande complessità e questa è una parte molto significativa dell'esistenza dell'unione europea da dove esce dove è nata l'unione europea beh l'unione europea ha le sue radici in quello che è accaduto dopo la seconda guerra mondiale quando la devastazione della guerra ha convinto la classe politica la classe intellettuale i cittadini dell'europa che occorreva fare qualcosa di nuovo che garantisse la pace e la prosperità e qui avete alcuni dei volti che hanno costruito l'europa così come la conosciamo oggi ed è importante ricordare che il progetto europeo anche se ha avuto una dimensione soprattutto economica non è nato come progetto di garanzia di pace di prosperità e di solidarietà questa in parte è stata sviluppata nel tempo in parte si è un po persa e questo invece noi dobbiamo sempre ricordarlo ci sono anche delle cose che simboleggiano la nostra identità prima di tutto il nostro motto il motto dell'unione europea è uniti nella diversità è un motto molto importante perché dà conto della ricchezza ma anche della complessità noi siamo uniti l'unione europea è un'organizzazione che mira a unire non solo le istituzioni ma i popoli ma nella diversità nel rispetto della specificità di ogni paese e questo implica che il progetto è un progetto dinamico non si arriva una volta per tutte ad avere questa unità ma è qualcosa che si costruisce nel tempo e che si adatta al cambio delle circostanze abbiamo un bellissimo inno l'inno alla gioia di beethoven che diciamo è forse la punta più alta della della nostra identità culturale abbiamo una moneta unica che ha avuto delle grosse difficoltà tuttora delle grosse difficoltà non tutti i paesi dell'unione europea partecipano ma simboleggia anch'essa l'idea dell'unità e quindi è un risultato importante seppur non completo abbiamo una bandiera e abbiamo una data quella del 9 maggio che è la data della dichiarazione schumann il ministro degli esteri francese che ha dato vita alle comunità europee che sono la base su cui abbiamo costruito la nostra unione europea abbiamo un quadro istituzionale molto importante molto complesso le istituzioni più importanti sono quelle del parlamento europeo che rappresenta i popoli dell'unione abbiamo un consiglio europeo che rappresenta i governi abbiamo la commissione che una specie di motore tecnico e poi abbiamo la corte di giustizia e tutta un'altra serie di organi tutte queste istituzioni lavorano per produrre delle norme per produrre delle azioni che si devono raccordare ovviamente con quella degli stati quindi una macchina complessa una macchina che anche compiuto dei raggiunto dei grandi risultati c'è un bilancio un bilancio che è un bilancio importante anche se rappresenta solo circa l'un per cento della ricchezza prodotta dai paesi membri con cui vengono raggiunti tutta una serie di vengono sviluppate tutta una serie di politiche che vanno dall'agricoltura alla coesione economica territoriale alla sicurezza all'immigrazione alla politica estera all'aiuto umanitario alla crescita economica quindi tutta una serie di settori dove l'unione europea ha messo in atto una serie molto importante di politiche non c'è praticamente aspetto della nostra vita quotidiana che non sia interessata da in qualche maniera da queste attività dell'unione europea abbiamo però anche delle crisi le vediamo oggi in maniera particolare con la crisi del coronavirus che sta interessando tutto il mondo ma che ha delle specificità a livello europeo ci sono poi crisi di sicurezza crisi migratorie crisi ambientali in tutto questo l'unione europea rappresenta un'opportunità ma sicuramente ha non ha potuto sviluppare appieno queste potenzialità è una situazione che non può essere definita se non altrimenti con la crisi perché bisogna continuare a lavorare sull'unione europea perché per molte di queste sfide è solo a livello europeo che ci può essere una risposta funzionante per la crisi ambientale per la crisi migratoria per la crisi sanitaria per la crisi economica che ne deriverà e che già avevamo conosciuto in passato per tutte queste sfide i confini nazionali sono dei confini troppo stretti e la possibilità di sviluppare delle risposte che siano efficaci c'è solo se siamo in grado di collaborare a livello di unione europea perciò la nostra sfida quella che è nelle mani dei governi ma anche nelle mani dei cittadini perché ognuno deve essere parte di questa impresa e riconoscere il nostro motto siamo uniti nella diversità perciò vinceremo le sfide se saremo in grado di lavorare su quello che è stato costruito e saremo capaci di rimmaginarlo per il nostro futuro quindi abbiamo tutti quanti da rimboccarci le maniche un caro saluto e a presto grazie a tutti